due squadre che secondo me credo che poi oltretutto noi non eravamo neanche al completo quindi probabilmente al completo potrei ci possiamo equivale a in quel senso dicite sì 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 loro mi sono sembrati un pochettino più vogliosi di vincere e con un pochettino di di cattiveria in certi momenti la palla rubata sulla rimessa alla fine insomma secondo me è un po l'emblema di questa di questa cattiveria però ti ripeto credo che bisogna anche salvare tutte le volte che siamo rientrati in partita quando loro potevano diciamo scappare via e noi invece siamo riusciti ogni volta riari a riattaccarci alla partita poi magari abbiamo perso un po un po di lucidità nel finale qualche qualche scelta di passaggio sbagliata qualche qualche cosa un po frettolosa in attacco per cercare di di passarli e loro sono stati bravissimi soprattutto con ciri beni a punirci sistematicamente chiaro che loro hanno tirato con percentuali molto molto alte però ti ripeto secondo me è anche un po ti faccio un esempio i due canessi di gatti nel primo tempo secondo me vengono da due errori difensivi nostri quindi probabilmente togliendo togliendo già quei due tiri molto importanti che sono venuti in un momento in cui loro cominciavano avere qualche difficoltà in attacco quelli sono tiri che chiaramente sull'economia della partita pesano l'errore è stato sapere che gatti comunque a loro toglie parecchie volte le castagne dal fuoco e concedergli comunque quei due tiri che sono proprio esattamente i tiri suoi secondo me un po di di poca attenzione ai particolari io alla mia squadra nel primo tempo alla fine del primo tempo detto questa è una partita secondo me di alto livello per questo campionato e la differenza la fa la cura del particolare e noi su alcuni particolari stasera siamo mancati il problema come diceva qualcuno anche di avversari cioè adesso bisogna anche riconoscere i meriti di montegranaro cioè chiaro che loro hanno dei giocatori che possono comunque riuscire a risolvere delle situazioni di gioco che magari altre squadre fanno un po più fatica anche sul discorso del pick and roll chiaramente abbiamo fatto degli errori dovuti alla cattiva interpretazione soprattutto delle loro chiamate perché avevamo preparato determinate cose su certe chiamate e alcune volte siamo stati in ritardo e chiaramente in ritardo loro ti puniscono però come dicevi te io mi porto via da questa partita intanto volevo fare i complimenti a tutti quanti dai nostri ai loro tifosi perché giocare in un ambiente del genere è veramente fantastico gran tifo però non mi è sembrato di sentire nessun tifo contro questo secondo me mi riallaccio anche alle parole che aveva lanciato il presidente nostro peppe era l'obiettivo di questa partita io devo essere sincero aver essere riusciti a riportare qua in massa circa 200 tifosi secondo me già è un grandissimo successo che ci dobbiamo tenere stretto e sul quale dobbiamo continuare a lavorare per cercare di creare feeling tra squadre e tifosi perché solo così secondo me possiamo ancora crescere c'è la possibilità i terzi c'è la possibilità sai ci sono risultati molto particolari nelle ultime giornate se tu hai visto anche quelli di questa settimana voglio dire anche loro non è che hanno un calendario semplice adesso perché devono giocare praticamente adesso hanno giocato in sequenza con palestrina e hanno vinto con noi hanno vinto poi comunque non hanno finito perché hanno ancora l'euro basket hanno hanno senigallia cagliari che stanno c'è sono squadre che chiaramente stanno vos scudete la testa per cagliari però cagliari si deve salvare signori giocare contro una squadra col coltello tra i denti non è semplice poi probabilmente i valori usciranno usciranno fuori per carità però secondo me per esempio senigallia euro basket sono due squadre che a queste due squadre per tipologia di squadra per tipologia di roster possono creare parecchi fastidi per cui non è non è scontato che questa è la classifica e questa rimarrà fino alla fine